Questa Natale è il pubblico di Cinema e Musica e Non Solo? Allora, il pubblico di Cinema e Musica e Non Solo, Buon Natale a Neri Parenti. Grazie a tutti. Neri, mi permetti? Allora, io sono il salutatore del blog, un saluto a tutti gli utenti su tutti i social network, è un invito a vedere questo film di Natale. Allora, non ho capito bene chi devo salutare. Il salutatore sono io. Allora, saluto il salutatore. Tutti i social network, tutti i tuoi fans. Con il salutatore saluto tutti i networks, vi fa piacere se venite a vedere questo film per Natale, ma tutti che senti sei. Io le ho. E tutti lo andremo a vedere, grazie tanto. Ciao. Salutatore, grandissimo Neri Parenti.